Consignore, come si prepara la chiesa agrigentina all'ordinazione episcopale di Don Baldoreina? Mancano ormai pochi giorni. Sì, l'ordinazione è stata fissata per il 29 giugno, la solennità dei Santi Pietro e Paolo a Roma, in San Giovanni il Laterano. Per me San Giovanni il Laterano è un luogo importante, perché io lì sono stato ordinato diacono alla fine del percorso in seminario, lì al seminario romano. Quindi tornare a San Giovanni per me è sempre un piacere e devo dire anche un'emozione, perché mi rivedo in quell'ottobre del 1986. Con la preghiera ci prepariamo all'ordinazione episcopale di Don Baldoreina, con la preghiera e cercando anche di essere presenti in modo rappresentativo di questa chiesa, dove lui è stato ultimamente rettore del seminario. Quindi il seminario sarà presente certamente alla celebrazione, insieme al vicario generale Don Giuseppe Gumbo, che al momento svolge le funzioni di rettore ad Interim, ma presto ci sarà il nuovo rettore. Un'anticipazione, ecco, comunicherò il nuovo rettore il 19 giugno, alla fine della messa del Corpus Domini. Questa è un'anticipazione, ma ovviamente in questo momento non diciamo chi è, via. Però già il discernimento c'è stato. Eh sì, è stato un travaglio, un travaglio, però sappiamo che finito il travaglio c'è sempre una nuova vita. Dico, le mamme in questo sono esperte. Ecco, ho fatto la mamma, abbiamo fatto questo travaglio e siamo arrivati. Quindi ci sarà il seminario con il rettore ad Interim, e ci sarò io certamente, come rappresentante di tutta la diocesi. tutta la diocesi, poi altri gruppi di presbiteri si sono già organizzati per essere presenti. E la Chiesa, la Chiesa cresce, si espande. Qual è l'augurio che rivolge al Lombardo Vescovo? di vestire sempre i panni del pastore. Di quel pastore che tante volte è stato richiamato dall'attuale romano pontefice, da Papa Francesco, no? Un pastore che sappia stare, secondo le opportunità, davanti al gregge, dietro al gregge, e soprattutto in mezzo al gregge, che è l'aspetto che secondo me, ma è un mio parere, oggi è da preferire. Io in questi ultimi mesi uso una sorta di slogan, meno nozioni, più contaminazioni.